Al The Space Cinema di Montebello torna Voghera Film Festival La grande festa del cinema indipendente e internazionale Tre grandi eventi ad ingresso gratuito 10 novembre, Notte Horror 11 novembre, Animazione e Cortometraggi 12 novembre, Documentari e Lungometraggi Dal 10 al 12 novembre, Voghera Film Festival 2017 Al The Space Cinema di Montebello della Battaglia L'Italia del rispetto trasforma il suo modo di fare politica Attraverso un progetto che ci racconta proprio Fabio Aquilini Leader del Movimento Civico l'Italia del rispetto Buongiorno, di cosa si tratta? Buongiorno a voi Ma semplicemente il nostro modo di fare politica È sempre stato in questi quattro anni Quello di stare vicino alla gente Noi abbiamo ritenuto di trasformarlo come Dagli una istituzionalità Riprendendo quello che era una volta I vecchi quartieri, le versate e le susscrizioni Oramai la legge non lo permette più Di conseguenza noi abbiamo ritenuto di organizzarlo Da un punto di vista personale Quindi il Movimento Civico l'Italia del rispetto Ha istituito quattro referenti Più me, quindi cinque Che corrispondono esattamente ai cinque quartieri Ogni referente ha tre collaboratori Che lavorano nel quartiere E di conseguenza qual è l'azione? L'azione è il cittadino del quartiere Racconta il disagio a un collaboratore Il collaboratore lo porta al referente Oppure i collaboratori e il referente stesso Vanno nei vari negozi, nelle varie abitazioni A sentire la gente come sta e cosa è smensa Chi sono questi referenti? In base a quale caratteristiche sono stati scelti? Allora, i referenti sono semplicemente persone Che ovviamente fanno parte da anni del movimento E sono persone che in questi quattro anni Hanno dato origine a tutte le proteste che noi abbiamo fatto E sono ovviamente anche residenti del quartiere E sono precisamente il dottore Michele Grandi Massimo Barbieri Davide Brambilla e Valerio Merlini E poi io come quinto Una volta che questi rappresentanti Ricevono le segnalazioni da parte dei cittadini Qual è il passaggio successivo? Noi ci siamo sempre trovati bene Grazie a voi Nella sensibilizzazione del disagio Quindi noi contatteremo voi Se ci vuote dare una mano E un'altra opzione Invece è quella Di contattare Eventualmente direttamente l'amministrazione E portare direttamente un disagio L'Italia del rispetto abbandona quindi Definitivamente le raccolte firme oppure no? Beh quando saranno per turno le faremo Non dico che le abbiamo eliminate Ma le abbiamo un po' trasformate Grazie Grazie a voi